La giustizia non si dispensa da sola Attaccanti in arrivo tra 30 secondi Capisco 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 Mai il tempo per una siesta Si torna a sparare Scatenate l'inferno! Capisco Si torna a sparare Capisco 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 Ok, ok, ok suggerisco di fare il riparo chiedi una mia barriera ecco proteggiti meglio non muoverti dacci dentro boss ora di fare scuola mi sono riuscita a riparo raggruppiamoci qui riunitevi alla mia posizione raggruppiamoci qui radunarsi per l'attacco speciale scatenate l'inferno non è ancora la mia ora ciao ciao ci vuole ben altro ciao 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 Bene, era ora. Bene, era ora. Bene, era ora. Bene, era ora. Bene. Bene. Grazie per il vostro entusiasmo.